Avete mai prenotato in un Airbnb? Comodi, veloci, e soprattutto si risparmia. Ma potremmo avere contribuito ad una truffa milionaria ai danni dello Stato. Metti un like al video ed iscriviti al canale Italia Reporter24. Airbnb, il gigante degli affitti brevi, è stato al centro di un sequestro record da parte delle autorità italiane. Un importo incredibile di oltre 779 milioni di euro è stato sequestrato dalla Procura di Milano che ha accusato Airbnb di non aver adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla legge italiana. Continua a guardare il video perché la motivazione dell'accusa ti lascerà senza parole. Questa controversia è strettamente legata a una legge del 2017 che richiedeva alle piattaforme di agire come sostituti d'imposta per gli host, ovvero coloro che mettono a disposizione alloggi per affitti brevi. Secondo le indagini, Airbnb non avrebbe versato l'acedolare secca sui canoni di locazione breve, accumulando un debito di 3 miliardi 711 milioni 685 mila 200, 97 euro. Cosa pensate di questi giganti che evadono le tasse? Scrivetelo nei commenti. Ecco l'accusa. La Procura afferma che l'evasione fiscale di Airbnb è stata una scelta aziendale deliberata. La società era consapevole degli obblighi fiscali dal 2017 ma ha scelto di non adempiervi per paura di perdere quote di mercato. Questa situazione ha portato alla decisione di sequestrare oltre 779 milioni di euro per prevenire la possibile dissipazione di tali fondi. Airbnb ha risposto a queste accuse dichiarando di essere in trattativa con l'Agenzia delle Entrate Italiana, sin dal giugno 2023. Magari con lo sconticino e pagando incomode rate mensili. Che dite? La società afferma di aver agito nel rispetto della legge e intende difendere i propri diritti in merito alla questione. Staremo a vedere i prossimi sviluppi nel frattempo mettete un like ed iscrivetevi al canale per nuovi aggiornamenti.